Secchiamo questo turn, giusto per dare il modo di bleffare Ok, snaff bet Anche per poter controllare un pochino diciamo Ah no, eravamo più alti con gli interbile Ovviamente call Anzi questo river che non è il massimo Perché qualche nuova lo può avere Però non so se è più che buono Qua Anzi donk bettiamo Il problema è l'unico problema che ci va sopra Là è un po' una rottura di coglioni Là è un po' scocciantino Perché rappresenta 10, 10, 9, 9, 6, 6, 8, 8, 8, 8 Anche se la... Ok, sfonda Ok, nice Ritorniamo più o meno allo stack iniziale Poco di meno che era 100.000 Ah sì, scammatissimo Brutto, brutto scammato Sì, diciamo L'esempio di Ciccio è il più appropriato di quello che ha fatto Mickey Però... Ok, Mickey Ecco, andiamo su bet, bet, show Va bene, qualche volta il nostro caro amico step ci scamma Però che fa? Dai, ci ha fatto la sub Quindi può scammarci 50 euro Trovano il colore K-Jack di Fiori Ok, non snappa Allora, sarà su Jack Non K-Jack Got you Allora, sarà su Jack Ok, allora, cosa battiamo? 6-7, 7-8, 1-6-8, 1-6-10, fiori random, 4-4-3-3-2-2 Ok, 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 ora sono più contento, ora sono molto più contento, wow, 40 bui, ok, no, ok, ok, ma il 6 era di, ok, non avevo visto il triple 6, bene, sì. Ok, 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 ok qua per valora good luck bene così grazie amici per la clip che esce un caffè eh sì il caffè è simbolico abbiamo anche avuto una donazione oggi quindi abbiamo avuto due caffè la vera top set è pensare alla sua esistenza va bene tutto ciò che abbiamo messo preflop o lin preflop o comunque sai flip e cose così oggi non ci siamo un po' ah facile non abbiamo dubbio almeno su come giocarlo ragazzi è arrivata mamma win perdiamo la mano di là mettiamo le linee qua c'è una mano interessante contro un fish aperto 3x3 fish apriamo lui chiama da small blind si vettiamo chiama ed esistiamo l'altar questo c'è anche show per value contro di lui se c'è un set quindi si è insettato rip adesso 3 vinciamo adesso 9 rip adesso fa midlock ah sì 10 è ridicolo vediamo a small blind squad super torneo assolutamente sì puoi rifarla con con ammazzon domani pass bump aspettiamo qualche secondo così che può essere che baronetto qua voglielo chiamare lui qua non è ma è in bluff mi ha sempre un ottimo range forte good luck una cosa migliore potremmo vedere montefiori bel piattone bel piattone quindi semplicemente è molto indeciso questo mano non sapevo se isolarmi se showare ma se fare solo quello perché sicuramente fold se lui showa cosa che spero non faccio però se l'oro doveva essere showato non lo so forse lui foldava o lui non lo so non lo so guarda 10 è un piattino però sicuramente ottimo good luck raga lo apro per 3 interessantissimo lo trippettiamo maico maico sì un pochino ristretti i poker sicuramente oh wow apri per 3 folda abbiamo siamo a 8 left siamo a meno 74 euro garantiti no dai no non è al 7 dai fuori 6 euro 7 oh no non ci serve niente dobbiamo soldare ok 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 c'è anche una lada ritorniamo a 23 bull ok ok stavolta già come se ne va qua farei un bel colleni good luck raga rovinci 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 c'è anche un altro lì oh jeez e qua facciamo il call falsissimo se già conosciò va a piango call se becca il culo e ora Johnny lo vedo già che folda per il cinquantino che ci può anche stare ci può stare come batfold eccolo vuole la latar grande Johnny se viene l'idolo morto al turn Johnny rimane l'idolo e comunque ha fatto una cosa non stupida ci sta è una mano marginale come Q di Islor faccia bellissimo Jack 3 no Johnny Johnny no Gigi a Johnny 243 euro garantiti 60-40 no dubbi che uscirà molto inizi river Giacomo non perde Giacomo è magico Giacomo non ha non è chance contro Giacomo sei out stop no qua ora io usciavo sempre ora sembra abbastanza una scammata eccolo ok spesso si splitta quindi speriamo siamo uno di quelle volte ma lei è una di quelle volte ragazzi perché vinciamo noi e ora abbiamo anche fecipsi di Giacomino good luck questo show però potremmo anche considerare il fold serenamente non so forse adesso non è troppo scema troppo da Nettone forse KQ tutte le coppie sembra me ne lasciavo tutte non la coppia però sbagliarla non so just an Ace va bene è ridicolo è durato un minuto cioè neanche qui buona serata a tutti